Furti in serie a Marotta durante la notte scorsa, un panificio, una macelleria ed anche la sede distaccata della polizia locale di Mondolfo nei pressi della stazione ferroviaria. Il panificio che si trova all'angolo tra la Littorania e via Giovanni XXIII ha avuto solo danni alla porta d'ingresso che ha resistito al tentativo di forzarla con un grosso canciavite dei ladri che non sono riusciti così ad entrare. Andato a monte il primo obiettivo però i malviventi non si sono scoraggiati e sono passati ad un altro negozio di alimentari poco distante, da lì una macelleria sempre nella strada cieca che porta alla parrocchia di San Giuseppe dove invece anche a causa di un serramento in alluminio poco resistente rispetto a quello in ferro del panificio che i malviventi sono riusciti ad entrare facendo un bottino tra geni alimentari e fondocassa di oltre 500 euro più i danni alle infrastrutture. Mi sono trovato circa le 7 davanti al negozio e ho visto la porta forzata e già ho immaginato tutto logicamente. Sono entrato e ho trovato la cassa per terra, formaggio per terra, bottiglie di vino, la cassa tutta sventrata dall'altra parte e tutto un insieme di cose. Sicché ho dovuto aspettare i carabinieri fino alle 9 di stamattina che arrivassero a fare i referti e la denuncia. Un po' di danni? Sì qualche danno, sui 500 euro di danni me li hanno fatti purtroppo quanto entra non guardano in faccia. Prosciutto, una formula di formaggio, un po' di nutella si vede che avevano fame, non lo so, è la prima volta, spero che sia anche l'ultima, speriamo che li prendano. Ma nel raid notturno non hanno risparmiato niente, nessuno come dicevamo anche l'ufficio della polizia locale, nell'edificio poco distante dalla stazione ferroviaria di Marotta, ha subito l'attacco con il cacciavite dei ladri, ma che forse perché indisturbati o forse per altra ragione non sono riusciti ad entrare, ma hanno causato seri danni all'infisso in legno. Difficile immaginare che cosa avessero in mente di poter trovare in un ufficio di polizia locale e soprattutto esponendosi al serio rischio di un allarme collegato o di essere catturati dalle telecamere e così infatti è stato, grazie proprio a quelle dedicate alla sorveglianza da poco installate dall'amministrazione comunale proprio nella zona della stazione e che riprendono, si vede molto distintamente, due sconosciuti che tentano di forzare la porta senza però riuscirvi. Immagini ora che sono al vaglio delle forze dell'ordine che indagano sui fatti accaduti nella nottata.